edizione della Super Maratona dell'Esna. E' grande, è grande. Ecco, la prima donna, transitano questi intorno a 11 minuti, 11 minuti di distacco dal primo e la prima donna, mi pare che quest'anno la donna è molto forte. Un gruppo di atleti, un gruppo di atleti fortissimo, sono ben 5, 6 e 7, 7 atleti quasi tutti attaccati e 129 anche. E' passato nel 149, quindi vediamo che scattavi Giovanni di Poderno. Costino, Cus Cosenza, un calabrese, il 109 se non sbaglio poi. Ultimo foglio qua negli iscritti, Giusci Fora, Giuseppe, Tennis Club, Fiumefretto, e c'è un bel gruppo di questo Tennis Club. Mi piace. Mi piace. Grazie. Avanti. Quattro vediamo veloce se inizia a stare questo. Però prima l'impressione di Lorenzo, guarda, lasciamo a te il commento, non mi chiediamo altro, di quello che vuoi. Beh, intanto vi ringrazio, ringrazio i volontari perché questi eventi non si organizzano senza di loro, vi ringrazio il gruppo Tosi di Tarvisio, ringrazio la gente della Sicilia, questo ambiente partano. Per la mia prestazione mi sono gestito, credo che è stata una gran gara, lo riconosco, sono contento, c'è la gente molto più in casa, sulla carta più veloce di me, però in salita su queste carte, la testa è il 70% qua, ma la differenza.